Musica Ciao a tutti ragazzi sono Infiltratore e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nella seconda e penso anche ultima parte della Cube Parkour E nell'ultimo episodio ci siamo lasciati qua con io che sono arrivato in cima al cubo Se vi siete persi la prima parte vi consiglio ad andarla a recuperare prima di vedere questo video Perché là ho detto anche varie cose che sono un pochettino importanti Quindi vi consiglio altamente ad andare a vedere la prima parte se non l'avete vista E state vedendo questo video in questo momento Quindi, ora, dato che siamo un pochettino più verso la fine Deduco che inizia a diventare anche un pochettino più difficile il parkour Ecco, ok, ok, et voilà, ok Bene, ora comincio a arrivare qua Benissimo Poi Marò i salti con le fence Volete proprio che parli Non è che parli Condito che insulti Dio proprio Voi mi volete male Brutti creatori di merda Oh Ma le prendete in giro Cioè prima le fence o le vetri Io non lo so 3 4 Vaffanculo Sì 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 bobbona Ma come ci arrivo là Sì ma è possibile quello Oddio Oddio ce l'ho fatta Bene Ok Ora Qui non dovrebbe essere poi così tanto difficile Se non fosse per sto Sto vetro di merda Ok Però ora ci sono i tappeti Quindi adesso la cosa mi piace Molto di più Benissimo Ma Mi state pigliando in giro Cioè io ho speso veramente 2 euro per una mappa così corta Ma Cioè io me lo aspettavo ampia Altamente 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 più lunga Evidentemente ci ho avuto un pochettino Delle aspettative un pochettino troppo alte Però Comunque è stato bello giocarla E nulla Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Fatemi sapere Se volete altre mappe parkour E nulla Da Infitrator è tutto Ciao ragazzi